Grazie mille. Mi sentite? Yes. Grazie. Io dico semplicemente che probabilmente non sarei qui oggi se non fosse stato per Paolo, perché Paolo mi ha sostenuto come pochissimi altri ed è lui che mi ha dato tantissime possibilità e ha fatto scattare la scintilla. Ho vinto il premio Massimo Urbani, dopodiché lui ha parlato di me a Lucio Fumo che organizzava il Pescara Jazz Festival, e insomma con la sua tenacia, la sua passione, la sua destardaggine che lo hanno sempre contraddistinto ha parlato di me in maniera molto entusiastica e Lucio Fumo mi ha invitato per aprire il set di Winton Marsalis e poi conoscete tutti la storia, da lì insomma è partita tutta la mia carriera. Quindi devo moltissimo a Paolo, siamo qui appunto per celebrarlo e vogliamo adesso suonare il brano che io e Alessandro abbiamo suonato qui, appunto in duo, sedici anni fa. Il brano si intitola Just Friends, è uno standard, ma prima di questo brano vorrei fare una citazione di un brano che Paolo amava moltissimo, una composizione di Phil Woods e il brano si intitola Goodbye Mr. Evans, quindi un medley, Goodbye Mr. Evans e Just Friends. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.